Professor Luigi, la Monica all'Arciconfraternita Santa Maria di Loreto ha organizzato fino adesso sette incontri. Buonasera, l'obiettivo dei nostri incontri è quello di far comprendere il fine dell'Arciconfraternita. Noi oggi siamo custodi di quello che ci hanno lasciato i nostri avi, testimoni della fede ai nostri avi che hanno realizzato da laici, noi siamo laici, insomma le Arciconfraternite sono gestite ai laici, hanno realizzato qualcosa e tocca a noi adesso mantenerla sia come strutture ma anche come fede e come centro propulsivo di attività. Tra cui questi incontri che servono appunto a mantenere accesa la fiaccola della fede all'interno di alcune realtà come per esempio la Basilica di Santa Maria di Loreto che è dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto e quindi noi come laici ci teniamo con l'ausilio chiaramente del mondo cattolico di mantenere questa fiaccola che ci hanno lasciato i nostri avi e portarla nel futuro ai nostri figli. E il prossimo giovedì ci sarà l'ultimo incontro ma non ultimo? Certamente faremo un incontro sull'anno del giubileo, chiaramente sarà l'ultimo incontro di quest'anno però sarà l'inizio di altri incontri che faremo durante l'anno giubilare. E per avvicinare la popolazione all'Arciconfraternita ci sono tante iniziative che state ponendo in essere? Certamente, noi siamo proprietari anche del museo di Santa Maria di Loreto e dell'Arciconfraternita, in questi giorni il museo sarà aperto al pubblico, anche nel periodo natalizio già l'anno scorso, anche quest'anno sarà aperto al pubblico. Stiamo chiaramente cercando di incentivare sia i residenti sull'isola sia poi nei periodi estivi i turisti a visitare questi luoghi affinché renderli vivi e non soltanto luoghi di ricordo. Allo stesso modo stiamo investendo, le Arciconfraternita, in particolare stiamo investendo anche nel riamodernare i nostri spazi e quindi l'oratorio presto verrà restaurato e quindi reso di nuovo fruibile, così come il museo sta in una fase di apertura generale, così come anche il cimitero di proprietà dell'Arciconfraternita fra poco sarà sottoposto a dei lavori di manutenzione.